Se Salvini uccide le persone in mare io mi vendico sugli italiani. 3, 2, 1, 1, 2, 3! Attenti, attenti, il rassismo, i italiani sono rassisti, i italiani sono cattivi, uccidero le persone in mare. Non è così, lo sappiamo. E pensare che Conte aveva detto cosa aveva detto sull'altro a farlo risentire, farlo risentire. Tu non ti crederai che cosa ci sono inventati. Il bonus monopattino! Il bonus monopattino donato! 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 Che macchina dove sono i soldi? Donato! 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 Alboni! Per vestiti di zombie, di scheletri, di cose orrende, mostruose, tutto per importare una tradizione che non è la nostra. E dimentichiamo invece le nostre radici, dimentichiamo la tradizione, la zuppa di ceci, il pan dei morti. E allora io dico, no, io non voglio questa roba posta, no, non voglio festeggiare Halloween. Io Halloween non lo voglio festeggiare. Io Halloween non lo voglio festeggiare. Non lo voglio festeggiare. Il decreto di giugno, che era di maggio, che era di aprile, pensato a marzo, che alla fine di febbraio, che era iniziato a gennaio, che al mercato mi parla con frotta. Tanto c'è, è una pilastrotta, sono parole! Vergognati! Non voglio più sentire! L'imbuto non si può riempire! Appolina! L'imbuto non si può riempire! Appolina! 300 milioni! 5 euro! 5 euro! 5 euro! 5 euro! Il problema è che i bastardi ci sono e che questi bastardi che hanno fatto questa cosa, ahimè, sono islamici. Salvini è il pericolore fascista, che siamo davanti al grande pericolo democratico. Non rinuncia, no, della nuova generazione. Tante volte, no, siamo stati indicati come gli emblemi dell'antipolitica, no, quelli che fomentano l'odio o l'adversità nei confronti della politica. Credo, credo a tutto, credo agli elefanti che volano, la fata turchina, le favole, credo quindi anche... Sarò pazzo io, fammelo dire qua! Sono pazzo? E sono io pazzo? Sono pazzo io? PRACTA Inoltre Grazie.